La Toscana si conferma uno dei territori privilegiati per le attività di riciclaggio e reati economico-finanziari su larga scala secondo il quinto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana nel 2020. Dallo studio realizzato dalla Scuola Normale di Pisa su Commissione della Regione Toscana emerge che nel 40% dei casi domina la camorra, in particolare negli investimenti immobiliari, seguita dall'andrangheta al 29% che domina nel narcotraffico e nel riciclaggio e infine Cosa Nostra. Nel rapporto si sottolinea che in Toscana ci sono strategie criminali diverse da quelle tradizionali usate dalle mafie. La loro presenza è pulviscolare, un modus operandi che nel rapporto viene chiaramente definito come variante Toscana. In Toscana queste organizzazioni mostrano una forte vocazione imprenditoriale che trova realizzazione nel tessuto economico locale attraverso investimenti di capitali illeciti sia per fini di mero riciclaggio sia con l'obiettivo di fare impresa, operando attivamente nel mercato regionale e anche fuori confini regionali. Nel 2020 sono stati 42 gli episodi in Toscana riconducibili a matrice criminale italiana e 32 straniera.